buonasera buonasera ciao miriam ciao bene grazie tutto ok poi tutto bene tutto bene tutto bene dai sì 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 per fortuna io amo poi sono un uomo caliente ho bisogno del sole del calore le mie origini mediterranee mi richiamano queste queste cose sì sì sono contentissimo preferirei un cambiamento meno drastico cioè da meno 12 a più 30 io sono molto combattute perché in realtà forse te l'ho detto io sarà per lavoro ovviamente l'ansia nel cambiamento climatico quindi il fuori stagione mi mette un po niente quindi quando piove vero contenta perché comunque stavamo un po recuperando quello che è successo quest'inverno adesso che è un po troppo caldo e mi viene ancora insomma spero che si ristabiliti tutto sì sì vale intanto saluto i più puntuali vedo in ordine al contrario diciamo saluto desi ciao cara spompatello mark hola hola buonasera dell'ord london bene bene piano piano vi state connettendo tutti nomi belli c'è qua tutti i nomi fantastici voglio con nome e cognome devo attrezzarmi ma guarda è una delle cose è una delle questioni che amo di twitch perché permette a tutti di sentirsi fa virgolette meno giudicabili e quindi possono essere più spontanei alla fine non facciamo questo questo come dire queste puntate per per fare i fighi e parlare da soli no ma ovviamente vogliamo vogliamo un confronto fra virgolette col pubblico vogliamo dargli la possibilità anche di acquisire magari delle conoscenze che magari non ha non ha avuto oppure delle curiosità che vorrebbe approfondire quant'altro quindi nel momento in cui ti chiami così è più facile perché quando facciamo le live anche su linkedin capito interviste founder si founder eccetera eccetera super sì sì esattamente siamo a scuola dice spompatello beh ma adesso a parte le battute poi da queste cose poi si impara sempre nel senso io stesso ogni volta che grazie a un ospite ma anche grazie alla chat spesso e volentieri vengono fuori robe incredibili quindi ce n'è per tutti i gusti e alexis ciao ciao caro così nessuno ti confonde in che se a ok ok vedi the lord london che io so l'alias francesco de biase addirittura lui si è come dire non ha nulla da nascondere lui tra l'altro scrive da londra è un imprenditore è un imprenditore di londra anche oggi una live internazionale wow ho fatto finito poco fa una call con un po di persone anche da londra e e se c'è alcune degli state ma è sempre interessante perché perché da un lato mi sento stra provinciale dall'altro però ma vedi che c'è da un lato dice oddio questo è proprio dei pensieri dei problemi che sono talmente diversi dai miei si parlava di marketing dall'altro poi invece sotto sotto i fondamentali ti rendi conto che sono veramente trasversali quindi è sempre interessante adesso vediamo adesso anche l'ella saba se connessa un patello conferma no no siamo qua per imparare si si presenta perché poi ovviamente sono sai piano piano poi diventi amico di tutti no ti aggiungi su linkedin eccetera ciao sono che ne so the lord london su 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 twitch poi nella vita vera sono appunto francesco infatti lo chiamo spesso frank perché ormai siamo in confidenza sono gli affezionati allora siamo già una bella una bella c'è già un bel pubblico magari iniziamo a quagliare diciamo vai sì sì buono faccio sì 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 allora io faccio come al solito faccio il maleducato cioè parto prima io presento me e il format in modo che poi ti do lo scettro del potere e come come il bassone della pioggia finché non me lo dai io non parlo più si basta di non fare il pasticcio comanda tu la piattaforma tranquilla 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 allora per chi non mi conoscesse per chi fosse nuovo come dire del format io sono marco padula sono un brand strategist director e un brand identity designer ho fondato a 00 che un'agenzia di branding consulenza design il mio compito come quello del mio team è quello di creare distinguere o rendere memorabile il brand di start up piccole media imprese fino arrivare anche i brand più conosciuti i temi come dire le 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 i temi fondanti sono tre quindi distinguersi dalla concorrenza aumentare il valore percepito del brand e trasmettere i propri valori fondanti e distintivi tra l'altro oggi parleremo proprio di un questo tipo un modo di distinguersi no attraverso valori attraverso missioni etiche quant'altro quello che state vedendo è il format 4 chiacchiere con un pro il pro di oggi e miriam che ha guarda mi si è scritta adesso un altro un altro numero che ciao miriam e laura si ok anche lei è una internazionale ci sente dalla germania è collegata da dusseldorf confermacelo laura così sappiamo che sei tu e poi c'è anche un'altra persona che si è scritta giusto un minuto prima che partissimo che che se si vuole presentare almeno salutiamo anche lei e benvenuta ok conferma sì sì perfetto abbiamo desi da bogotà spompatello non so se sei negli stati uniti se in italia frank da londra quindi siamo abbastanza international forse dovevo chiamarla diversi e inclusion quindi non non diversità inclusione allora io mi prendo come dire la pagina di linkedin per fare una breve presentazione quindi miriam frigerio brand management e comunicazione sostenibilità appunto inclusion e diversi credi nelle persone nel cambiamento nelle parole e sei ambassador di parole ostili questa è un po una una macro presentazione diciamo da linkedin però a me piace dire tu ti conosci da quando sei nata ti conosci molto meglio di come più conoscerti linkedin dici qualcosa in più allora sì mi sono so da quando sono nata un po tanti anni fa dunque sono due quali cose che ci sono scritte lì sono da ampio tempo come dire svoltato il ghianta anche un po di volte nonostante questo non lavoro 24 ore al giorno non l'ho mai fatto anche se ho due figli no le facciate casuali esatto e sì mi occupo di brand e sono la responsabile del brand della comunicazione di sorgenia che è un'azienda del settore energetico tutte quelle cose che ho elencato lì in particolare la passione per le parole mi viene dalla l'esperienza precedente dalla formazione io tantissimi anni fa appunto mi sono lavorata in lettere in particolare in letteratura contemporanea e credo che le parole siano sempre uno strumento che ti permette quando qualcosa ti sfugge di capire di cosa si sta parlando veramente intendendo sia le parole rispetto alla loro storia sia rispetto a come noi le usiamo a volte ne discutiamo quindi insomma ogni una le sue chiavi questa è un po la mia chiave ottimo ti ringrazio intanto della di questa aggiunta diciamo e vediamo allora secondo me la prima cosa importante da fare è forse distinguere bene le due parole perché spesso vengono confuse no c'è un mappazzone c'è diversità inclusione però no allora guarda quando tu mi hai detto questo titolo ho detto mio dio c'è inclusione diversità nella comunicazione sono delle cose che vanno ben chiarite di cosa si sta parlando di questi aspetti cioè diversità inclusione comunicazione credo che la più importante la prima dalla quale partire sia proprio il concetto di diversità la diversità è un termine abbastanza anomalo perché la caratteristica di essere diverso è una caratteristica che in qualche maniera si definisce non per se stessa ma in contrapposizione a qualcos'altro cioè diverso dal latino e chi è girato dall'altra parte non voltato dall'altra parte e quindi la prima domanda che ti viene è naturalmente si va bene diverso da che cosa da che cosa sono diverso la risposta classicissima è da che cosa è normale e qua si apre un mondo perché se il diverso il diverso dal normale che cos'è normale anche qui giuro che poi non vado oltre con l'etimologia normale dal latino normalis era la norma e in latino la norma è proprio la squadra dei geometri cioè quella roba che si usa adesso alle medie per squadrare i fogli questa è una cosa che io ho trovato sempre abbastanza interessante perché da un lato la norma no la con la squadra ti fa proprio delle righe drittissime e mi sono sempre chiestano un'idea una curiosità mia se anche la sovrapposizione che per lungo tempo c'è stata tra quello che è normale quello che in qualche maniera è retto no anche dal punto di vista metaforico sia un caso non sia un caso quello che non è normale sembra quasi come dire dal punto di vista morale a oddio che paura che fa l'altra cosa che mi ha sempre molto impressionato di questa etimologia il fatto che normale se non lavoriamo così ma una cosa drittissima cioè divide a metà un fa proprio dei quadrat delle delle righe dei degli angoli retti da una parte c'è quello che è giusto da quell'altra parte c'è quello che è sbagliato non c'è credente un quadrante positivo e un quadrante negativo in realtà poi nella nella vita comune nella vita pratica secondo me il concetto di normalità è molto più riconducibile a un concetto se vuoi che studiano tutti quelli che studiano marketing c'è il concetto della gaussiana no questa fantastica curva campana dentro sotto la campana ci deve stare quello che più comune c'è quasi un concetto di distribuzione in qualche maniera no e anche qua però se noi partiamo dall'idea che diverso è un concetto relativo e normale dovrebbe essere quello assoluto se può in realtà essere normale la cosa più diffusa come dire siamo passati dalla padella nella braccia perché abbastanza intuitivo quello che è normale non ti dico in grecia non lo è in svezia ma neanche quello che è normale a palermo lo è a bolzano a livello di cose banalissime orari e caratteristiche somatiche è abbastanza interessante secondo me su questo aspetto notare come a volte le cose che in qualche modo non sono comuni non sono consuete ci piacciono e a volte no cioè sarebbe tutto da indagare no perché a quel questo punto noi che siamo tipicamente le persone mediterranee siamo affascinati cioè ci piace il tra virgolette non normale nel senso di non consueto svedese forse ci piace meno il non consueto scuro nero con i capelli crespi e qua c'è tutto un tema no rispetto a questo punto a come di nuovo mi definisco io c'è chiaramente ciascuno tende a considerare da un lato la normalità dove sta a lui cioè la sua campana se la crea intorno e dall'altro la sua bolla la sua bolla e dall'altro considerare forse quello che è diverso in termini un filo se vuoi aspirazionale c'è quello che mi piace figo e allora vabbè ne lo sento è diverso ma vicino a quello che invece magari non lo è invece mi fa più paura e questo è un tema secondo me per tornare altra questione tua l'inclusione apre moltissime riflessioni perché che cosa vuol dire inclusione inclusione anche qua se sto a guardare la parola vuol dire chiudere dentro cioè io sono al centro e includo cioè porto dentro la mia bolla come giustamente l'hai detto tu quello che è fuori che è diverso questa cosa però si porta dietro io credo un concetto di fondo cioè intanto l'idea di chiusura cioè facciamo invece di aprirci facciamo tante piccole bolle no c'è uno fa da polo di attrazione si erge un po a misura e dall'altro mentre appunto io personalmente credo che la differenza qua mollo completamente le etimologie vado sul frigerio pensiero che non è assolutamente codificato da nessuna parte secondo me il contrario di diversità non è un concetto di inclusione non è il chiudere dentro ma è mettere al centro la persona c'è una persona quello che è a tutte le sue infinite diversità e si porta dentro e secondo me in questo di nuovo interessante per parlare di parole considerare come noi tendiamo a definire gli altri diversi c'è tutto un filone anche recente fortunatamente non più così di moda no che è fatto un po da come dire da tentativi di politically correctness che però a volte diventano dove alla fine chi sono il non vedente non udente il disabile il l'extracomunitario che secondo me è la parola emblematica di una sorta di pruderia che invece di portare dentro scuole perché tu dici extra cioè proprio fuori vedi a dove di fatto il concetto di inclusione si esprime però sempre a partire dal nostro punto di vista cioè noi definiamo quello che è normale e quello che secondo me non è normale gli mettiamo davanti una negazione e questa roba è buffa perché in italia se tu ci fai caso c'è l'associazione italiana ciechi non c'è l'associazione italiana non vedenti siamo noi che li definiamo non vedenti cioè sì uno non è come se mi definissi non uomo perché io non sono un non uomo sono una donna no perché perché uno tende a definire non volante siamo dei non volanti noi non volanti no cioè non siamo perché in realtà tendiamo a definire considerare noi stessi il centro e gli altri in opposizione eh che è un po assurdo cioè definire una persona disabile è come definirla incapace ma questa roba è è stranissima cioè noi sai tu sai noi lavoriamo con vedevio che la nostra testimonia la conosce cioè tutto ti viene da pensare tranne che determina disabile c'è il contrario dell'incapace sa fare qualunque cosa ehm ecco quindi per tornare alle parole secondo me se eh il vero modo di parlare di inclusione che appunto un termine che non mi piace dovrebbe essere quello di eh in realtà considerare che siamo tutti diversi mh le persone sono molto diverse e la società nella quale ci muoviamo è fatta di tantissime neanche differenze ci tantissime identità che e le aziende anche sono dell'identità no che si devono mh reciprocamente mettermi in relazione ma rispettandosi senza senza dire io sto qua tu stai insomma questa è la prima considerazione uguale colgo come dire il tuo assist perché brand identity letteralmente quindi l'identità della marca e la ricerca dei brand ma delle aziende in generale di che era una propria identità o perlomeno magari già ce l'hanno e vogliono esprimerla meglio già quello è un modo di differenziarsi di distinguersi e quindi diventare diverso perché è l'omologazione che ti 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 fa che ti cancella no però è incredibile come noi diciamo esseri umani siamo eh anzi forse guarda cito un commento di spompatello è una bella coperta calda mettersi al centro del mondo lasciando fuori tutto il resto quindi probabilmente finché ci sentiamo normali no siamo bene perché siamo siamo come gli altri siamo omologati non siamo in pericolo perché se gli altri stanno bene sto bene pure io perché sono uguale a loro la diversità viene percepita spesso come una con accezione negativa invece forse è proprio la chiave anche perché anche volendo essere come dire il più razzista possibile no tu fai vabbè io voglio io sono bianco come i bianchi ma io mica sono uguale a tutti gli altri miei conterranei per dire no cioè fra italiano italiano c'è un mondo di differenza fra fra un milanese un milanese c'è un mondo di differenza vuoi per colore dei capelli vuoi per tipologia di capello fine grasso riccio curvo cioè quindi forse sì il presupposto corretto come dire per educarci ed educare al meglio forse è quello di insegnare non come si faceva una volta da piccolo ricordo no siamo tutti uguali non prendere in giro che ne so al bambino con gli occhiali perché siamo tutti uguali invece forse proprio la chiave quella siamo tutti diversi perché perché lui che c'è gli occhiali deve essere preso di mira piuttosto che te che sei senza no ma assolutamente questo è un tema sai appunto giustamente prima ancora per diventare un tema di brand no visto che stiamo parlando di aziende di è proprio un tema anche di relazioni personali cioè veramente no io credo che ehm siamo in una situazione in divenire no eh la società è estremamente complessa eh io prima parlavo del politica di correct che chiaramente spesso considerato e indicato come un emblema di eh ipocrisi eccetera credo che comunque eh vada tutto in fasi no cioè eh probabilmente rispetto il il mh l'extracomunitario è un passo ulteriore rispetto a sporco negro detto questo eh è adesso una cosa che noi sentiamo cioè a me sembra e noi sentiamo come un po' eh stridente rispetto a tutte le i sovrapensieri le connotazioni che si sono aggiunte dopo cioè la situazione la ricetta è una ricetta non credo che esiste soprattutto in in un sistema complesso in un contesto di comunicazione non complesso per citare buoni Jacobson cioè la comunicazione vive in un contesto le relazioni sono fatte all'interno di un contesto il contesto cambia continuamente noi siamo parte di questo contesto che si cambia si cambia in continuo quindi la cosa io credo importante prima ancora che come aziende come persone è quello di comunque interrogarsi si arriva spesso a delle eh conclusioni che magari sono soltanto provvisorie o sono anche sbagliate visto da un certo punto di vista però interrogarsi su certi temi è un modo per mi piace mi piace l'espressione che ho usato Spompatello di non chiudersi sotto di mettersi sotto la copertina calda contenti convinti che si stia si stia bene lì comunque ci si continua a muovere in questo sconto tu dicevi il tema delle aziende sicuramente le aziende i brand io sono convintissima di una cosa scusami ci tengo a dire brand non inteso come i mass brand anche le realtà più piccole anche il singolo libro professionista può ascoltare secondo me il brand è io ho sempre avuto questa idea del brand come l'identità no cioè l'identità di un'azienda l'identità di una persona l'identità di una famiglia o di un gruppo di amici cioè il brand è secondo me una sorta di identità collettiva che è fatta di valori del fatto di riconoscersi certi voli chiaramente a seconda delle tue esperienze cioè chiaro che un'azienda avrà dei valori collegati al contesto in cui opera perché evidentemente come dire quel contesto influenza il suo modo di il modo di agire di pensare delle persone che ne fanno parte io credo che siano i valori che costituiscono il brand quelle che poi fanno in modo che quel brand si esprime in una certa maniera cioè non è la brand image o la brand identity il ton of voice e tutte queste cose qualche sicuramente studi visto il lavoro che fai non dipendono dal fatto che arrivi all'agenzia creativa si mette lì e dice sai che ti dico siccome ho fatto una fantastica ricerca il tuo brand è abcd e deve usare queste parole queste no devo usare questa immagine queste no perché si è sempre spesso tradizionalmente ancora a volte si fa così però poi ti ritrovi dal punto di vista pratico con qualcuno che magari scivola sulla buccia di banana rivela con alcune affermazioni che appunto quel modo di sentire di presentarsi all'esterno è stato creato a tavolino secondo me ma voglio dire non lo dico questo veramente non lo dico solo io un po dicono studi ben più autorevoli del mio punto di vista il modello dell'azienda or post driven dell'azienda che si muove per uno scopo per un significato collettivo che raggruppa una serie di persone al suo interno e all'interno del nel quale si rispecchiano le persone fuori non può che partire dal fatto che quelle persone all'interno si ritrovano dietro un certo tipo di pensieri e quindi mai direbbero le cose in modo diverso anche in comunicazione insomma questo ma il tema della comunicazione secondo me rispetto alle aziende e al titolo da cui stiamo parla siamo partiti non inclusa le diversità sta proprio qui cioè le aziende i brand nel contesto contemporaneo più che mai sono sia dei soggetti che parlano sia dei soggetti che creano il contesto sono dei soggetti che devono scegliere delle parole dei termini secondo me è fondamentale che le aziende e brand non perdano mai di vista quello che sono adesso si fa un grandissimo discutere ci sono un sacco di neri sono è fuori chiudi la porta scusate non lo so maria sono scusate mi incontro vai serena vai serena il bello della diretta non lavorano 24 ore al giorno e no dicevo ecco cioè ci si fa un sacco di discutere ci sono tantissimi dibattiti sul ruolo ad esempio della pubblicità del linguaggio in pubblicità che forma per la il come dire il la responsabilità che ha chi si occupa di comunicazione nella formazione dell'immaginario collettivo ora io su questa cosa sono molto d'accordo fino a un certo punto e relativamente d'accordo da un altro punto di vista molto d'accordo perché è vero che chi comunica influenza l'immaginario collettivo è anche vero che non siamo più negli stati uniti degli anni 50 o anche nell'italia degli anni 80 siamo in un contesto dove l'immaginario collettivo influenzato dai social dagli influencer da mille altri soggetti da persone che in un meccanismo estremamente fluido si relazionano e secondo me in questo le aziende sono parte di un contesto che guidano sia un certo punto soprattutto se consideriamo il tuo punto di vista di prima cioè non è che i brand siano tutti coca cola ci sono brand siamo anche noi a cosa personal branding è proprio della persona singola che ovviamente non è paragonabile a un coca cola un google a un apple a questo ci aggiungo anche un altro fatto io come dicevi insomma nelle legge la mia dio tra le cose che più mi appassionano cui più credo c'è il tema della sostenibilità e secondo me la sostenibilità che è ambientale e sociale e per un'azienda per un brand è anche legata al suo ruolo economico cioè io credo che l'azienda per essere corretta debba operare in modo tale da non perdere mai di vista che ha bisogno non ti dico di fare utile ma di tenere in equilibrio i conti alla fine dell'anno perché soltanto così potrà fare prima cosa remunerare adeguatamente le persone che lavorano per l'azienda stessa seconda cosa svolgere un equilibrato nella società senza pensare che ci sia delle attività che sono soltanto delle voci di costo le attività sociali di impatto sociale ambientale e invece delle attività che sono soltanto delle voci di remunerazione quindi in quest'ottica vista con un insegno organico la sostenibilità ambientale economica e sociale sono un tutt'uno rispetto al quale la comunicazione fa parte diciamo di quel modo di esprimersi corretto e coerente che ha un impatto all'interno del mondo ma che non deve mai perdere di vista il fatto che comunque un'azienda è una realtà che prima di tutto deve mantenere un è un soggetto diciamo sociale ma che in qualche maniera ha dei vincoli di tipo economico questo secondo me porta anche un po una una come dire una valutazione un filo diversa rispetto ad alcuni modelli se vuole un po forse da un lato idealistici idealizzati dall'altro un po stereotipati forse di rappresentare l'impegno sociale delle aziende cioè secondo me l'impegno sociale delle aziende anche dal punto di vista della diversità possono e può essere un impegno che oltre che tener conto dei valori del brand no di cui parlavamo prima tenga anche conto banalmente di esigenze di marketing detta brutalmente cioè in italia il 51 per cento della popolazione è rappresentata da donne a livello statistico mondiale mi sembra più o meno il 10 per cento della popolazione un po di più è rappresentata da diciamo l'universo lgbtq plus in italia se non mi ricordo male ci sono circa 3 milioni di persone con varie forme di disabilità ora rappresentare anche loro è un modo secondo me per essere se sia un brand che ha certi valori corretti coerenti col proprio brand ma anche è un modo per come dire aprire le porte noi rendersi riconoscibili a un pubblico che è un pubblico assolutamente composito cioè non è più il modello no wasp americano negli anni 60 o 50 non è più neanche il modello di famiglia la mulino bianco con la quale siamo cresciuti tutti quindi anche veramente proprio dal punto di vista secondo me di mercato no brutalmente parlando non è una parolaccia parlare di mercato essere inclusivi nel modo in cui lo si racconta è un modo per aprirsi al a quella che è l'infinita diversità del del mondo e della società nella quale ci inseriamo poi possono succedere delle esperienze delle situazioni che sono un po quella presente abbiamo vissuto in sorgenia dove in qualche maniera si invertono i pezzi noi abbiamo come dire lavorato di brand e siamo arrivati a crearci un target che ci ha riconosciuto dopo vi spiego meglio c'è il modello classico del marketing dice analizza il mercato cogli la differenziazione la segmentazione dei target e fa in modo di arrivare a ciascuno con il prodotto e la soluzione di comunicazione corretta noi abbiamo un po noi ma insomma ci sono sono esperienze che credo anche altre stanno facendo abbiamo un po invertito quando abbiamo scelto di lavorare con con vedevio la la come dire il il processo cioè noi abbiamo siamo partiti a chi eravamo era anche un momento storico particolare nella vicenda del brand noi avevamo bisogno di una persona che identificasse l'azienda quella quale ci potessimo rappresentare che impersonificasse una serie di valori che noi sentivamo molto nostri che dopo un degli anni complicati non erano più riconosciuti e abbiamo detto questa è la persona che perfettamente ci rappresenta e quindi abbiamo fatto questa scelta senza veramente tener conto in quel caso del mercato perché noi non avevamo nessun stakeholder con delle disabilità ma in qualche modo quella storia quella scelta ci ha permesso di settare in qualche maniera il il radar non il nostro standard e poi nel corso del tempo perso le persone si sono riconosciuti in noi e come se invece di dire analizziamo il mercato e facciamo così per arrivare a quel mercato abbiamo detto ok noi siamo così chi nel mercato si riconosce noi in qualche maniera in modo ti direi automatico spontaneo e è venuto dalla nostra parte questa è stata una cosa un'esperienza assolutamente sì sì praticamente non avete ma com'è giusto fare in teoria poi ovviamente poi la teoria dice una cosa la pratica un'altra no però in teoria bisognerebbe assecondare anzi no la teoria come dire i marchettari ti direbbero a seconda la tua azienda ai come dire ai gusti del pubblico invece un brand con la b maiuscola preferisce essere se stesso e poi se non piaccio pazienza ma se piaccio piaccio quindi io ti dico chi sono mi presento i miei valori sono questi io una missione poi vabbè faccio anche prodotti e servizi ma questo è un altro discorso però come brand ho questo tipo di identità se ti piaccio conosciamoci no e ovviamente poi si fidelizza al cliente eccetera questa cosa ti dirò a due a questa a questo a conservazione ci sono sottolineerei due aspetti il primo interno diciamo e l'altro proprio di marketing quello di marketing se vuoi legato al tipo di prodotto che ai no è chiaro che se tu fai scarpe e devi capire quale sono le scarpe che vanno di moda se c'è un tipo di popolazione che esige bisogno di scarpe consoletta piuttosto che no se tu come nel nostro caso è quella che è una piatta assolutamente indifferenziata commodity cioè energia elettrica che uno non vede non tocca che è uguale da ovunque ovunque tu la compri che non ha elementi di contatto fisici se non la bolletta che non è esattamente un'esperienza bellissima o tu a questa cosa aggiungi un valore per cui uno ti dice e rispetto al quale non dovrei dire ragazzi i prezzi sono più o meno più o meno allineati cambiano le formule ma alla fine dell'anno non diventa né ricco né povero per avere scelto un fornitore piuttosto che un altro allora questo punto tu a questo a un prodotto come questo che è un servizio ma lo stesso discorso secondo me vale per le assicurazioni per o associ un elemento di scelta di riconoscibilità di riconoscimento oppure veramente finisci col fare la guerra del prezzo guarda del prezzo che è una guerra inevitabilmente a perdere perché poi su questi mercati i margini sono così ridotti così contratti che le volatilità poi sono esposti a delle volatilità incredibili guarda cosa sta succedendo adesso che o tu leghi la tua scelta a la scelta che il mercato vuol fare di te ha dei valori in più altrimenti distintività zero e a questo si lega secondo me anche l'altro però elemento cioè che vuol dire dirlo non basta no cioè noi sia a livello interno che a livello esterno noi con la scelta insomma di beve che è stato un po l'inizio di un'esperienza abbiamo iniziato veramente a conoscere un mondo a conoscere un mondo che poi come persone che come dire rappresentano costituiscono quell'identità collettiva che il brand abbiamo conosciuto esempi banali la famiglia di beve ha creato un'associazione che si chiama art for sport per favorire l'integrazione dei bambini e dei ragazzi amputati attraverso lo sport e noi ci siamo fatti i loro giochi le loro feste abbiamo partecipato siamo venuti noi e da questo tipo di incontro e di contatto che nasce anche un'adesione interna ai valori del brand che si rappresenta rispetto alla quale scusatemi la banalità ma è voglia fare feste di natale con i bambini palloncini clown cioè basta una cosa così che tutti si sentano riconosciuti allo stesso modo chiaramente non è che possiamo organizzare incontri tutti i nostri clienti però il fatto che certi valori tu li inserisca poi l'inclusività nel lavoro che quotidianamente fai con i clienti quindi che ne so nei sistemi di loyalty piuttosto adesso non mi voglio mi fermo però non voglio fare il pippone su sorgenia però il concetto è il fatto che tutto entri nella nel tipo di esperienza quotidiana no e diventa importante ecco scusa una cosa che ci tenevo a dire visto che stiamo parlando di rappresentazione scusa salto un po di pala in frasca ma è l'importanza quando si si rappresenta qualcosa che in qualche maniera viene come dire percepito come diverso no rispetto allo standard o alla a quello che è più comune e l'importanza del modo di rappresentato delle parole ti parlavo prima ma anche a livello visual cioè la stragrande maggioranza dei dei modi in cui noi rappresentiamo le persone che hanno delle forme di disabilità fisiche che quindi si possono vedere a volte quasi del morboso cioè c'è un'insistenza sugli occhi che sono chiusi sulla mano che manca sulla persona che non sente sul poveretto che inciampa sulle stampele eccetera ecco noi per esempio nella rappresentazione della disabilità o del fatto di essere priva di alcuni pezzetti come li chiama lei di bed abbiamo sempre cercato di valorizzare non quello che lei manca ma quello che lei ha cioè senza cadere nella retorica di dire alle persone che non ci vedono in realtà hanno tutti gli altri sensi più sviluppati perché sembra una roba qualità così cioè quando parli di una persona che ha delle differenze secondo me sarebbe bello no cambiando il punto di vista tutti quanti un po ci mettessimo nell'ottica di considerare quello che loro hanno in più che dal quale poi derivano anche le loro esigenze no e non quello che hanno che non abbiamo perché ci sentiamo inondati no dal dal senso di superiorità dal senso adesso ti aiuto io ti insegno come si fa sì 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 ora ne approfitto miriam per per leggere anche un po la chat perché mi spiace come dire mi piace far sentire in casa anche lo anche il pubblico mi diceva cos'è laura diceva commento vecchio ma ancora attuale diciamo passare dall'aver timore degli altri alla voglia volontà curiosità di conoscere l'altro spompatello dice interessante come tutte le aziende dicano di mettere al centro le persone ma poi in realtà l'ultimo motivo per cui scrivono questa frase mettere al centro le persone ma mettono al centro se stessi quello che sono un po le mode no il greenwashing il riguo singe alla fine poi fai l'etica il diversi di washing dove dove vanno di moda perché magari con l'agenzia di marketing ha detto guarda che le persone vogliono sentire che i brand accettano la diversità di anche tu qualche parola così per qualche post no però poi magari questo si dicono solo una cosa poi ci torniamo dopo noi dal 2018 facciamo una iniziativa contro la violenza nei confronti delle donne e va beh che è stata una storia di scoperta adesso se vuoi ne parliamo se no ma quello che ha sconcertato è che nel 2020 questa cosa è diventata una moda e ci sono due episodi che mi hanno veramente stupefatto il primo che nel 2020 c'è stato il picco il 25 novembre che è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne praticamente non c'era azienda che non abbia fatto un post su qualunque social no la violenza varie amenità e manco fosse la festa dei gatti non la festa dei nonni cioè ti dà proprio l'impressione che questa roba era lì si doveva fare e si è fatta l'altra cosa che mi ha veramente fatto attonita è stato l'anno scorso abbiamo fatto una roba del tutto diverso vabbè mi chiama una persona una bravissima persona premetto di una concessionaria media qualche settimana prima mi dice ma quest'anno per il 25 novembre che cosa pianificate cioè hai capito tu pianifichi natale pianifichi pasqua pianifichi le vacanze stesse e pianifichi il 25 novembre questa roba mi ha fatto venire un brivido perché cioè ti dà l'idea di come anche si è finito nel frullatore no si è finito nel frullatore di una roba che poi perde completamente il il punto di vista corretto e anche il modo poi corretto di raccontare però stavi leggendo sì 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 stavo leggendo ma vedo come adesso parto al contrario perché vedo che ci sono anche sul sui commenti di adesso laura dice ancora l'importanza di rappresentare quello in cui si crede valorizzare quello che sia bellissimo sui commenti sulla violenza sulle donne standing ovation e spompatello d'accordo ovviamente c'era anche frank esatto dell'ord london che scriveva pochi minuti fa e la teoria in group e out group dei bias no i bias cognitivi funziona allo stesso modo e ci sono ovviamente poi sì anzi colgo l'attimo anche per dire che spesso e volentieri non c'è ma la fede dietro certi tipi di pregiudizi è solo anche una come dire la colpa di un modello in cui siamo vissuti siamo cresciuti e quindi ci viene spontaneo fare dei ragionamenti lo dicevo l'altra volta scherzando quando ci siamo sentiti l'altra volta no sulla sulla normalità di andare in giro vestiti per strada oggi in questo contesto in questa società sempre oggi ma su un'isola deserta quella tribù va in giro nuda o vestita di foglie per loro è normale quello vedono i vestiti dicono cos'è che ci avete addosso quindi la normalità è sempre un po da 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 verificare in funzione di un contesto non è che è giusta o sbagliata e noi la famosa la famosa squadra squadra che dicevi no o se da una parte o se dall'altra in realtà è ben più complesso si guarda questo tema della complessità io credo sia benissimo sia più vero che mai oggi e sia più vero che mai quando ci si confronta con situazioni che coinvolgono profondamente il nostro sentire e la vita delle altre persone in questo caso secondo me l'esempio della violenza sulle nei confronti delle donne abbastanza emblematico e come giustamente dicevi tu ci sono le strumentalizzazioni assolutamente come tutte le cose purtroppo della vita e del mercato c'è però anche tantissime gente ci sono tantissime persone che in assoluta buona fede arrivano secondo me però ha a volte a prese di posizioni di posizione che rischiano di essere contro producenti faccio guarda due esempi banali ma molto chiari dicevo noi lavoriamo insomma per affrontare il tema della violenza contro le donne oltretutto questa veramente scelta assolutamente e esclusivamente di brand e non di marketing cioè l'abbiamo fatta perché ci sentivamo abbiamo letto dei dati che erano ghiaccianti ma cosa facciamo facciamo qualcosa dal 2018 abbiamo però cercato in qualche maniera di farci aiutare tra virgolette cioè di conoscere il fenomeno tramite la collaborazione con una cooperativa che si occupa di questi temi vabbè lì ci sono due aspetti due cose che io ho capito che sono fondamentali per esempio il primo che non si può invitare indistintamente una donna che ha subito una qualche forma di violenza in particolare domestica a denunciare anche se la cosa che ti sembra più e due che non è corretto con chiamarle vittime caso della denuncia è forse quello più come dire su quale ci si scontra di più allora stiamo parlando di se parliamo della violenza domestica la violenza della domestica avviene in casa per come funziona il sistema proprio in italia cioè se una donna che ha subito una violenza domestica vale dei carabini le fa una denuncia questi non possono tenerla lì metterla in casa di rifugio scusa torna a casa e nel frattempo però parte la denuncia che viene recapitata a quella stessa persona che magari ha esercitato su di violenza con la quale le vive quindi il rischio è quello che in realtà prima che intervengono i carabinieri per occhi per essere forse dell'ordine per metterla in salvo questa in realtà sia già stata massacrata dalla persona che ha denunciato senza considerare tutto il l'annesso connesso di tipo psicologico l'altra considerazione secondo me visto che stiamo parlando di parole ancora più importante è il concetto di vittima io credo molto in questi principi del manifesto di parole ostili però lo stile questa associazione è nata nel 2017 che con diciamo un lavoro collettivo di persone che si occupano a più livelli a vario titolo di comunicazione ha cercato di definire dei principi perché in rete ma non solo ci si possa muovere in maniera inclusiva no e aperta nei confronti di tutti ci sono alcuni principi di parole ostili e due dicono tra quelli che mi piacciono di più che si è ciò che si comunica e che le parole danno forma al pensiero ora se noi ci pensiamo definire una vittima vuol dire in qualche maniera inchiodare una persona a essere per tutta la vita soltanto quella cosa lì cioè una donna che ha subito una forma di violenza che magari è durata anche tanto tempo in qualche maniera ha vissuto una situazione chiaramente devastante dolorosa ma è una situazione che non è la sua totalità è un pezzo della sua storia quello che dobbiamo fare tirarla fuori continuare a dire vittima vuol dire che lei per tutta la vita una roba che era come dire deve essere legata a un periodo di venta assoluta e questa è la prima cosa che che viene naturale no cioè tutti tendenzialmente dicono poverina una vittima ma no cioè sì poverina una vittima ma no aiutiamo adesso il tema della dicevo appunto dell'importanza anche poi di di capire di confrontarsi con così come per esempio nove volte su dieci a parlare di donne che hanno vissuto queste esperienze non sono loro e sono altri che si ergono a padrini o madrine di in realtà come dire la prima non sono psicologo ma insomma il prima prima mossa è la prima il primo passaggio per cui si possa lasciare alle spalle situazioni come questa parlarne quindi scusatemi su questo vuoi mi scaldi un po mi riacquietto però si vede che ti sta a cuore sì 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 l'è la l'è la sabba dice esatto la donna comunque sola poi spompatello fa una battuta che che voglio leggere perché è giustissimo c'è poi tanta differenza fra un idiota in buona fede una persona normale in cattiva fede se poi dicono fanno no la stessa cosa laura dice le parole se me la posso segnare magari è molto bella compatello dici se ci puoi cedere i diritti e laura dicevo ha scritto anche le parole possono diventare macigni le parole così come ma è un tema che che spesso ci capita nelle varie puntate e l'etichetta non le etichettature cioè se tu vieni schedato come vittima vieni c'è diventa un'etichetta che ti rappresenta ma tu mica sei una vittima cioè tu sei anche che ne so una mamma sei una professionista sei una sportiva mica sei una vittima c'è vittima è veramente vincolante come come diciamo aggettivo anzi come definizione forse e esatto spompatello che che io me lo ricordo lui è proprio sulle etichette le odia ma voglio dire credo che siamo più o meno tutti d'accordo che l'etichetta ti uccide perché ovviamente ti 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 condanna e semplifica ti semplifica talmente tanto che ovviamente non esiste una parola davvero rappresentativa e distinta e si rappresentativa di della tua interezza no quindi essendo tutte complesse io mi ricordo un psicologo tantissimi anni fa mi disse una cosa bellissima e cioè che le persone sono storie non situazioni ecco questo è molto vero cioè ciascuno di noi si imbatte in situazioni che in qualche in certe circostante possono veramente essere anche totalizzanti però poi ciascuno di noi ha una storia e continuare a perpetuare o a definire una persona per quella situazione che ha vissuto in un certo momento vuol dire che una storia quasi non ce la può avere no e non può essere così credo che non sia mi piace come metafora perché è un po come se appunto tu volessi cambiare libro ma hai sempre lo stesso titolo no c'è il titolo e vittima il titolo e vittima titolo e vittima la storia che non può cambiare quindi quindi mi piace come 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 immagine che mi sia creata d'altro poi voglio anche come dire sono caldo anch'io sul fatto delle etichette di quant'altro perché per esempio come dire esempio che ho in casa mia moglie è una maestra e tutte le volte che magari aiuta magari bambini con i ragazzini con magari qualche sindrome o qualche problema no e ma io sono asperger oppure ma io sono dislessico lei dice no tu non sei dislessico tu soffri di dislessia oppure tu hai questo problema ma tu non sei il problema che era anche una cosa che ho visto da se non sbaglio un influencer però non me la sono come dire non la vedo da un po' quindi non mi ricordo che fa sensibilizzazione sul problema dell'anoressia lei dice voi non dovete se soffrite di anoressia non dovete dire io sono anoressica perché tu ti incastoni ancora di più nel problema invece tu devi slegarti riconoscere che hai il problema che è l'anoressia ha un nome ma tu non sei il problema tu hai un problema se hai un problema lo puoi risolvere se tu sei un problema non puoi risolverti assolutamente che qualche anno fa era diventata una frase della di amma bonino quando aveva scoperto no era stato diagnosticato il tumore e lei ha detto beh io non sono il mio tumore cioè non sono la mia malattia e questo secondo me effettivamente è un tema importante legato se vuoi appunto anche al modo di alle modalità di rappresentazione no che a quali tutti un pochino contribuiamo anche con le parole dibattiti sulle parole quali parole usare quali no cioè non so poi quali sia il punto di caduta sempre giusto e corretto l'importante però è essere consapevoli del fatto che quando tu definisci una cosa le stai dando un senso no e quindi e possono è vero possono essere dei macini cioè possono cambiare influenzare oppure eh se non c'è la come si dice non la guarda adesso il grandissimo dibattito sul tema schwa asterischi eccetera allora io quella roba lì avendo fatto lettere ho un po' di non è che la roba mi metta francamente a massimo mio agio ehm però è vero questo cioè sono d'accordo col punto che se non c'è una parola per dirla una cosa non esiste cioè se tu non lo definisci se non è il modo di raccontarlo di dirlo eh un concetto non c'è che poi se vuoi scusa adesso senza fare sai che ci sono questi mi ricordo c'era un linguista mi sembra danese eh degli anni cinquanta che aveva fatto degli studi interessantissimi dove di fatto aveva analizzato eh la traduzione dei colori e dei colori da una lingua all'altra lui però ha fatto questo esperimento aveva considerato credo che lo facesse con l'inglese il rapporto che c'era tra una serie di parole in inglese o anche in altre lingue europee e la lingua inuit e aveva scoperto che in inglese c'erano alcuni non c'erano proprio i termini per alcuni colori per noi abituali no ma c'erano tipo 50 o adesso 50 ma più di 10 sicuramente modi per definire quello che per noi tutti è solo bianco perché lì è chiaro no che c'è una tal gradazione c'è una tale varietà di bianchi che a quel punto non ti basta un colore solo la sua differenza sta lì ed è un po così no cioè anche noi con le persone con l'identità con le realtà c'è c'è una grande differenza tra definire una cosa o permettere a una cosa alla quale vogliamo dare vogliamo dare diritto di cittadinanza cioè le persone che io lo capisco non mi riconosco nel genere maschile nel genere femminile cosa faccio non mi dico e quindi è un tema cioè credo riconoscono che è un tema poi che arrivarci come arrivarci è tutta un'altra questione però insomma il fatto che le parole rappresentano la la realtà e che la lingua possa seguire l'esigenza di rappresentare la realtà è sicuramente un punto di interrogativo assolutamente il certo credo sì 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 faccio faccio un po lo streamer per i per i nuovi che magari non sono abituati a come dire a twitch sotto vedete che passa una frase con delle paroline se volete scoprire diciamo i prossimi ospiti se volete vedere le repliche delle della puntata di oggi e le puntate precedenti dei giovedì scorsi ovviamente sempre temi interessanti chi più particolari chi meno ma se se vi è piaciuta come dire la live vi invito a recuperare quelle vecchie perché sicuramente vi divertirete vi basterà scrivere punto esclamativo e la parola che c'è in chat e vi esce fuori il link magico per per recuperare quello che più vi serve allora mancano pochissimi minuti allora quindi poi poi ti liberiamo miriam se no 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 tranquilla leggo leggo gli ultimi commenti vedo scompatello che dice il bianco non è la somma di tutti i colori ma di tutti i sentimenti sì no no scompatello è fenomenale no 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 anche perché non è la prima live che dire che siamo in compagnia e tra citazioni e quant'altro no no è di livello è un ottimo un ottimo un ottimo elemento del pubblico assolutamente vediamo avete qualche ultima domanda da fare a miriam per un commento se posso su questa considerazione del bianco è interessante no questo aspetto cioè rispetto alla lingua nel senso che la nostra noi viviamo in almeno la lingua italiana che è una lingua neulatina con una storia mi generi non c'è al neutro e mille casini è una lingua che tende a essere più dell'inglese o almeno per l'inglese un po tra virgolette di coine un po superficiale come lo conosciamo tutti deve essere una lingua che è molto precisa e quindi proprio per questo a volte il fatto che manchi un termine generico sono il fatto che manchino dei termini delle sottocategorie rende più più forte l'esigenza di avere un termine generico che tenga dentro tutto cioè se noi avessimo forse il neutro sarebbe meno come dire meno complicata la situazione ma effettivamente il polio sono francamente per restare laddove possibile per espandere l'angola di più cioè non ci credo di presentarmi dicendo buongiorno a tutti io dico buongiorno a tutti a tutte mi pare francamente perché poi c'è il grande tema scrivi ma poi come pronunci scrivi con dei segni che poi dislessi ci non capiscono quindi sei ancora più discriminante cioè c'è tutto un mega tema però il fatto che l'equilibrio tra la rappresentazione della totalità che va anche un po verso la sintesi che è un'esigenza del modo anche moderno di comunicare l'emblema è twitter che va abbastanza in calo però insomma lì spesso tu hai bisogno della parola sintetica e il tema della sintesi è un tema che quelli che fanno comunicazione persone che fanno comunicazione si portano dietro da tempo perché la prima cosa che ti insegnano è a mio dio devi stare in queste battute no devi stare in 15 secondi devi stare in 10 non puoi fare la spiegazione allora via giù drastiche semplificazioni quindi da un lato abbiamo questa esigenza di semplificare al massimo che quanto più siamo diversi ti sintetizzare al massimo sono anche quanto più siamo diversi significa tanto più avere una parola che tenga dentro tutti dall'altro l'infinito mondo che sia ampia però e rispetto ai quali dovremmo dare attenzione quindi è un grande tema quando è parlarne un modo così per rendersi conto che siamo in una realtà molto fluida e tanto vale esserne consapevole la consapevolezza credo che non faccia mai male assolutamente abbiamo fatto arrossire fino alle ossa spompatello e laura colto l'attimo per dire in effetti l'ossa sono bianche quindi fate da tante sfumature di bianco assolutamente in tema sono sono d'accordo ok ok dai allora laura forse e sim buonanotte miriam mi sa che che ti inizio a salutare diciamo mi lascio qui così diamo tempo come scusa mi saluto qui bene ok perché se vogliamo andare davanti andiamo pure non ho grandi allora io raramente sono d'accordo in toto su quanto dice qualsiasi persona a parte me oggi sono d'accordo su ogni cosa detta quindi vabbè siamo stati come dire promossi laura ti ringrazia grazie grazie a voi infatti grazie a voi dico sempre che senza di voi parlerei da solo e verrei arrestato quindi è fondamentale la presenza di tutti voi e della grande partecipazione che date sempre a tutte le live quindi grazie mille grazie del vostro tempo esatto spompatello grazie al vostro grazie al vostro e direi che 20 spaccate faccio l'annuncio diciamo domani ci sarà l'ultima puntata della settimana del tg branding quindi alle 12 per chi vuole essere come dire chi appassionato che curioso chi vuole è avido diciamo di informazioni e vuole vedere le ultime chicche di marketing adv branding digital eccetera eccetera mi segua alle 12 siamo live e appunto facciamo questa questa rassegna stampa delle 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 ultime novità di curiosità eccetera saluto e ringrazio di nuovo miriam per le bellissime per la bellissima live il contributo eccezionale temi importanti e quant'altro non non sarebbero c'è bisognerebbe fare una live così tutti i giorni per anni per per come dire veicolare il più possibile il messaggio e niente dai buona buona serata a tutti grazie della compagnia buona cena a voi ci vediamo ci vediamo settimana dai che quasi ci siamo esatto come abbiamo detto arrivato il bel tempo grazie brava brava infatti infatti l'abbiamo chiamato ciao a tutti grazie a presto ciao